ben tornati salve tutti sempre da star wars e da lord strike adesso sono anche lord e ho anche una fichissimissima impegno guardatela una fichissima apprendista ex jedi che ho convertito al lato oscuro della forza dalla mia friend list potete dire che il nobs e livello 40 ieri sera l'ultima volta che ci ho parlato era 37 poi dice che non nerda no lifer comunque qui sono impegnato nel craft dai a vacanza ancora fino a domani sono falsamente impegnato nel craft perché mica sei impegnato tu è giusto allora vediamo che altro c'ho da fare qui nei mestierini la prossima c'ho la 220 quindi vabbè adesso torno a questa che mi sono rotto le balle di stare qui come un pirla ok in che pianeta sei sono sulla flotta ma adesso devo andare sul mio pianeta un nuovo pianeta sono sulla volta c'è vedo vedi per afficcio 74 giocatori su questa zona prendo la mia macchinina messaggi si penso che sia la roba del craft che non ho ritirato adesso quando la mappa vedo la posta è più vicino e vado a prendere la posta così aggressivo mamma mia qui il craft è piuttosto complesso ti lascia non è sì il noioso vedi è complesso perché ti spiego è il noioso perché sei impegnato a fare questi sono i vestiti per le l'amera questo non è una mandato il mouse di giro allora spera che non posso prendere solo perché non hai abbastanza spazio si perché sono stato un obbligo uno spazio di inventare solo di demolire allora più tutto light armor vedo se lo posso dare alla mia giovane padovans che sono scendo dalla motoretta qui dall'acqua scooter allora questo è il livello 72 questo è il livello 70 si può buttare questo è il livello 70 la sua è il livello 72 ok 70 ok no se posso shardà no solo i miei vestimenti leggeri che puoi fare quindi shardà la roba vecchia che si chiama reverse engineer shardà era un vecchio termine del da wolf che poi è rimasto attaccato agli altri giochi mentre i miei pupazzi craftano il problema vedi ho speso un sacco di 200.000 k il problema è che tu puoi trattare è vero che potrà stare con il compagno c'è quando i compagno problema che se non hanno alcune cose che si comprono dai vendor non possono grattare tu mica ci puoi manda il tizio a comprare rendo certo e il vento specializzati non sono tutti i pianeti quando sei fregno che volevo a tutto agli altri è un bel come che fa croftore dai vendoni è vero è una buccia come direbbe qualcuno questo di una settantaquattro così qualcosa di una quattro non avrei grazie ci lo ringraziamo sempre abbiamo per coperto di insulti tanto si è abituato adesso andiamo a prendere a prendere la nave si qui alla elevator che perché sulla nave c'è scritto use your ship o termine non lo parla con la cosa hai visto come mi fai che deva la radicchissima wow c'è scusa l'aggressività si ieri mi deve facevo il craft per non annoi la mia morte ho fatto anche un po di pvp e ma dimostro la mia inutilità del pvp si lo facevo solo per partita per fare un po di extra mentre si è un po pesa la nave allora vi faccio vedere tutta la transizione guarda c'è stato un momento di giugno in cui mi sono molto molto annoiato del giochino sì sì te lo confesso la noia è stata mortale sentite le voci c'è ritratto per casa che carina non l'avevo mai vista la nave lasciata la transizione la nave partiamo via carino non sono bello molto bello bravi questo mi è piaciuto sono contento che ti è piaciuto grazie di nulla che vuole abbiamo finito no ok va bene ah un'altra cosa bruttissima è che non puoi spostare gli elementi della dell'interfaccia lo sai sono bloccati cioè le finestre si tra i miei del course anche qui un simpatico problema anale ti viene dopo un po' prima o poi ci metteranno mano no no prima di solito il pupazzo sta acqua e mo l'hanno tolto parliamo quello termina ma appaiono tutti vedete beccato un po' del tizio che parla chi è il tizio che parla? il mio maestro in realtà credo che poi alla fine non ho accoppato mamma già io non so per i cattivi lo sai ma sono fatto un massaggio non ti avevo visto con la mascherina con la mascherina integrale qua intanto ah il robotino non c'è perchè lo mando da craftare brutto ognubo che sono e allora che vuoi che ti sto dicendo che io non sento? mi mando una nuova missione e mi sto spiegando il perchè la devo fare ah ok ti interessa davvero il perchè? mi interessa il risultato della mia risposta più che altro ah appunto vuoi dire no è piaciuta da quest'apprendista ahahah bravi tutti così eh guarda credo che questa sia veramente quella parte più interessante questa della storia si ti da un motivo per continuare a quest'area che ovviamente mi ha raccontato del padre non è niente vergognoso qual è il capo di questo gioco? è il 50 ne ho passato la metà da un po' e poi una volta finito? dici che ci sta qualcosa al capo? no così per capire visto che ti dirigi allegramente eh allegramente visto che lo 60 geni lo potrei prendere con comodo però quello aggiungo il capo con questo per vedere cosa c'è e poi fai un dps per vedere l'altro dall'altro un'altra linea di questa eh è finito si le mie perplessità sul pay per questo titolo continuano eh io non la pagherai ti devo pagare per una roba che già ho ma questo ha finito di fare ah riapriamo e spero non termine la roba che posso shardà che posso fare la roba io non pagherai comunque perché non ti piace il genere no diciamo che non sei motivata per nulla davvero davvero per nulla io butterei anche qualcosina nel cargo della nave lo sai? che la mia nave è anche il cargo a tuo piacimento insomma tutto tutti i materiali del craft una cosa avuta è che il materiale del cap lo puoi beccare anche da qui cioè io penso posso buttare tutto il materiale del craft buttare conservare tutto in una parte si è e non c'è nulla ma poi quando ti riservano questi materiali sono già disponibili per gli omini ok figa sta cosa si questa è l'unica parte figa di tutto non devi andare a prelevarli per poi usarli no questa è una cosa bella lo so lo sapevo che avresti apprezzato si perché io mi rompo tantissimo a mettere tutte le robe in banca perché mi stanno nelle borse e poi andate a riprendere quando mi servono ti capisco ed è per questo che proviare a questo questo è una fregna cosa bravi ok bravi ve lo concedo bravi vero? si in questo si bravo 226 che dovevi poter già andare a comprare altre roba vedi? tu rimarrò indietro con il craft semplicemente perché adesso non è che posso tornare giù prendere altre roba per il craft e sti cazzi viaggio per fare queste poi io sono un pessimo craft questo lo sapevamo già ma in realtà poi ho preso un mestiere che non mi serve un po' pensa che è genio ecco questo non l'avevo visto ah la mappa spaziale si però non ho capito dove devo andare non lo so traver tu nasce ad ass ok grazie bravo ecco mi leggo bene questo un campione della fia stings nascerà nascerà dov'è? Balmoral nascerà che carino questo nascerà 20-24 tu non sei 31 c'è scritto software ho cambiato l'inganno vabbè facciamo vedere un po' di legge spaziale vabbè ha sempre il suo perché carino si apriamo oh cazzo da fa un macello si ah voleva aprire questi io ho sempre il suo perché carino allora queste i tatooine non le farò mai queste non sono mai riuscito nemmeno ad abbandonarla sul nascerà quindi che cazzo ci sono venuti a fare perché tu se non lo sei tu eh eh darbarà superiore ah ah perché si incontra a nascerà ok ok quindi siamo venuti qui ah questo giusto si per fare il culo a questo qui ah qui ci sono le missioni della flotta spaziali spari lasciato bene perché ridi perché ho fatto il sì sì le tue spiegazioni spari lasciamo parte sì vabbè vengono la manicella spari sembra un sembra un videogioco degli anni ottanta ma adesso ti esagerato ti esagerato vabbè poi te la faccio vedere e mi dirai se non hai una palla mostruosa è bene ah guarda il tipo oddio quanto ti ha tornato al Shadda perché è la Las Vegas dei poveri la Las Vegas tipo dove è il padre mio? ok tipo il paesello di padre mio con tutti gli alberghi non ci sono mai andata ah male vabbè voglio parlare di padre mio non mi lascia da la Shadda è la Las Vegas dei no altri o la Las Vegas di questo giochino è ripilante a Pietralcina brava grazie però mi sa che non sta Pietralcina in paesello no lui è di Pietralcina vabbè vabbè perché ci siamo imbuscati sto discorso a cattolo non lo so ma non mi fa intrippare perché lo so e non mi... secondo me se lo chiede a google e lui lo sa eh beh grazie ma pure il google del mio cervello lo sa ma è un attimo impallato adesso ci metto un'ora a caricare facendoci fare una pessima figura non dipende da noi e saperemo come occupare il tempo guardate la barra che scorre comunque volevamo farvi una puntata nel livello precedente cioè sull'altro pianeta ad Alderaan non l'abbiamo fatto in tempo per motivi tecnici ecco la mia testora andiamo andiamo a fare il culo a qualcuno no ma guarda è tutto super colorato si si è tipo Las Vegas adesso c'è NCS Las Vegas ma che stai a dire? per fare una citazione che odio lo volevo dire forte oh il signore santo non ci fate caso e perché? perché è meglio non farci caso mezzenti ma ah comunque posso dire una cosa è veramente stranziato a palla sto gentile viaggi spaziali sono scelte in riesci sono scelte dove ci sta questo qua da incontrare via come si chiama quello che devi incontrare? generale ehm cast is gone in generale in generale in generale va bene in generale famo fidassi per forza gente che corre gente che gioca si questo lo ho ah wow ecco che figo però non l'avevi vista? no eccola benvenuti la Las Vegas di No Artry mi fa ridere perché? è carina fa un po' steampunk questa probabilmente allora questa ambientazione sai devo parlare con Travels quel signor Medzi ok voletto così ti vuoi ti faccio vedere la città ah 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 si si molto steampunk no? molto cyberpunk eh steampunk si 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 tu sai eh si si e molto indigeno quello che hai detto invece adesso mi fa molto ogni 80 si dirò ah ah da sotto da sotto ok possiamo anche allontanarci un po' la visuale si grazie c'è la mia sofferenza esatto dunque vogliamo verso la nostra destinazione in cui dovremmo regolare i ponti con questo generale traditore brutto bastardaccio e imporvi la volontà del nostro signore suprema qui c'è un altro fermo con una donnaccia pure lui eh pure lui c'ha generale questo è come me anche lui c'ha un generale si ma è più donnaccia si in culo però che troione guarda ma lui è due livelli più avanti pensi che gli la posso dare è più bruttarella ma è più donnaccia sai l'altro che dire può essere che gli la posso dare pure io lo sai per favore perché? ma perché? è già così è indecente la moto d'acqua qua volo con la mia moto d'acqua già visto sberetta allora io metto la mappa in modo da non fare figure di merda quindi vedete la mappa in trasparenza solo per spiegarvi dove vado non è bene per non perdermi io essendo completamente rincoglionito si si tu l'orientamento in game è pessimo mamma mia l'italiale va un po' meglio però questo è un lungo viaggio un'altra delle cose odiose di questo giochino i viaggi odiosi lunghissimi e comunque vediamo un po' vi annuncio questo messaggio qui in alto in cui ciro ci annuncia che ha finito pure le quest bonus su algeron il tipo che le dava era nascosto nel palazzo per ora le ho fatti tutti questi leghi se serviranno veramente a qualcosa sono sicuro che non serviranno a un cazzo lui è convinto che gli diano il video il il droidine di saur ah ok aspetta l scommetto che non servono a una mazza ma nel tempo libero ma nel tempo libero expami il mio pg visto che è merdi così tanto nel frattempo ti ha scritto anche si si mi puoi dire che è in diretta con noi ti annuncio che tutto quello che scrivi quello che scrivi sarò usato contro di te andrà nella prossima nel prossimo video e adesso ci scriverà delle scuole se ti amicinare se ti amicinare vabbè sei sicura di dove stai andandosi? no però mi ricordo il piano che ho girato queste parti qua bentornati salve di nuovo ti abbiamo salvato da lungo viaggio siamo nella safe house della repubblica su narsha da e quindi stiamo arrivando dal tipo che dobbiamo cingere di botte? dobbiamo interrompere questo incontro segreto abbiamo già cingere di botte un paio adesso credo che entrando qui dentro ci sia la scena infatti eccola la facciamo vedere e poi vi salutiamo beh direi proprio di si quindi dobbiamo interrompere questo incontro segreto questo incontro segreto è un po' di più ma io posso giurare un viso a guardare il fondo ok no ok è possibile? però c'è una tutela push-up comunque volevo solamente dire questo chi? io? no ok, proviamo a non morire e ovviamente devi riuscire ad ammazzare prima tutti questi il mio problema non è quando riuscirai tutti questi e qual è? e non morire niente più di qua se i quelli non pubblicano niente e quelli altri provate che ci sanno che si fare ok, adesso ce la vorremmo tutti in due per fare abbastanza easy credo ok, adesso non c'è un 3 e utilizziamo un po' di abilità per scegliere più o più o più e con l'esima vittoria del dynamic duo vi salutiamo per questa puntata esatto alla prossima ciao 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 ciao